La Virtus Lanciano saluta il vecchio anno con un settimo posto che alla vigilia del torneo in tanti avrebbero sicuramente sottoscritto. Ma per quanto visto fino ad oggi c'è anche rammarico perché prestazioni alla mano i rossoneri avrebbero meritato qualche punto in più in classifica. La gara del biondi col Bologna ha rappresentato l'ennesima occasione persa. Un pareggio avrebbe meglio fotografato la gara dei rossoneri che hanno fallito un rigore e mancato qualche altra buona occasione per chiudere il match prima del ritorno dei felsinei. Se il campionato fosse finito oggi i frentani sarebbero nei playoff ma al tirar delle somme alla squadra di Roberto D'Aversa mancano quei due o tre punti che avrebbero potuto regalare un piazzamento sicuramente migliore. Non mancano però le attenuanti alla formazione rossonera che ha dovuto fare a meno per quasi tutto il girone di andata del bombercerri infortunato e per molte gare causa soprattutto squalifiche di Babatiam. L'esplosione di Monachello è stata una bella sorpresa ma all'appello fino ad oggi sono mancati gol di piccolo e dei difensori. Lo scorso anno fra menta Mammarella e Trösti il lanciano di Baroni poté contare su una buona dote di gol. Fino ad oggi così non è stato anche se c'è tutto un girone di ritorno per dar modo a chi è ancora secco di incidere e far esultare i propri tifosi. Alle porte c'è il mercato di gennaio ma in casa rossonera la società ha già fatto capire che non ci saranno affatto stravolgimenti. Per l'attacco si punta sul recupero di Cerri. Al centrocampo si aspetta il rientro di Paghera mentre qualcosa si potrebbe fare per la difesa soprattutto se Federico Amenta dovesse essere ceduto. L'ex celanese causa soprattutto infortuni. Quest'anno ha avuto poco spazio ma nelle gerarchie di difesa è stato superato anche da Ferrario per cui potrebbe decidere anche di cambiare aria. La Salernitana è sulle sue tracce. Se così fosse il direttore sportivo Leone sarebbe costretto a reperire un altro difensore ma il bilancio della squadra resta più che positivo. I numeri dicono che la Virtus sta facendo bene. Al Guido Biondi Gatto e compagno hanno pareggiato probabilmente qualche partita di troppo ma in trasferta il rendimento è stato sicuramente più che positivo. Il Lanciano è una delle formazioni che ha perso meno, solo 3 KO, uno in più della super capolista Carpi. 6 le vittorie e ben 12 pareggi. Un record visto che nessuna formazione di B ha pareggiato tanto. Ora il pensiero si sposta sul girone di ritorno. Ripetere quanto fatto nelle 21 gare disputate fino ad oggi sarebbe già importante ma conoscendo da Versa si punterà perché no a migliorare ancora. Il 17 gennaio si riprenderà dal Guido Biondi e dalla sfida ad un Catania che per quel giorno potrebbe essere completamente diverso da quello attuale con tanti volti nuovi ed anche un nuovo allenatore. Ma ora è tempo di vacanze che per i rossoneri sono senza dubbio meritate.